Fatti di sangue che hanno colpito e allarmato la collettività ed una vera e propria escalation di furti, autentica piaga per il territorio, spiccano questi riscontri tra i tanti segnalati nel resoconto annuale riferito al 2012 da poco trascorso dell'attività della Procura della Repubblica di Vasto. È stato il procuratore capo Francesco Prete in un dettagliato documento a ricostruire quelli che sono stati i numeri di lavoro dell'ufficio da lui coordinato, fari puntati in particolare sui quattro omicidi consumati negli ultimi 12 mesi nel territorio tra Vasto e San Salvo e di reati contro il patrimonio che fanno registrare un significativo incremento, anche in misura superiore rispetto ai dati nazionali. Il 2012, evidenziato Prete, è stato segnato da una serie di episodi che hanno giustamente allarmato la collettività determinando la percezione di un accresciuto senso di insicurezza. Anche se i fatti di sangue non sempre rappresentano di per sé soli un adeguato misuratore del livello di criminalità, sicuramente vanno ricordati quattro omicidi che si sono registrati sul territorio nell'anno appena terminato. Delitto Paganelli a San Salvo, duplice omicidio dei coniugi del Vecchio e omicidio Strever a Vasto. È importante ricordare che, salvo nell'ultimo recente episodio per il quale le indagini sono ancora in corso, negli altri casi i presunti responsabili degli omicidi sono stati individuati. Le indagini finora compiute consentono di collocare i delitti nel contesto della tossicodipendenza, fenomeno che resta diffuso e difficilmente arginabile. Tuttavia, proprio il contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti è stato uno degli impegni primari di magistratura e forze dell'ordine nel recente passato. E ad esempio Prete cita la maxioperazione Tramonto, che ha portato all'arresto di diverse decine di persone coinvolte nel traffico e che proprio verso la fine dell'anno hanno riportato condanne con riti alternativi o rinviati a giudizio, con alcune ancora in stato di custodia cautelare. Grazie a tutti.